Si chiama Alicia Rice, è certamente una bellissima donna che di lavoro fa la barista e pensate che riesce a risparmiare quasi circa 2000 euro ogni mese con dei semplici accorgimenti, con dei semplici trucchi che lei mette in atto 40 anni di età, una donna fiera di se stessa per quello che riesce a fare barra a compiere pensate che non hanno letto un computer e pochi pochi indumenti è proprio questo stile di vita che assomiglia la ricetta giusta che l'ha portata a risparmiare un bel grusoletto a livello economico e quindi risparmia quasi 2000 euro al mese, precisamente 1800 euro eppure questa donna in qualche modo diciamo che vive come è giusto che sia insomma le sue attività, però diciamo che ha cambiato letteralmente la sua vita e ha diciamo così stravolto completamente la sua esistenza utilizzando dei accorgimenti davvero molto molto utili, azzardo a dire va bene? Grazie a tutti, il video termina qua, una buona sera da voi